Alcuni giorni fa la ronda delle guardie federiciane, composta da tre unità della NAT federiciana verde, mentre percorreva alle ore 17.45 la complanare direzione Trani via Vecchia Biceglie, ha avvistato una coltre di fumo che si sviluppava sulla via Vecchia Biceglie. Erano le ore 17.55 quando, arrivato sul posto, il professor Martiradonna ha chiamato il comando provinciale per esternargli l'incendio che si sviluppava nella contrada Petrarelli e precisamente di fronte ai campi di un privato. Dal comando hanno quindi riferito che erano a conoscenza dell'incendio e di rimanere sul posto perché stava arrivando una pattuglia. Dopo pochi minuti mentre l'incendio stava invadendo le corsie di fumo riducendo la visibilità ai conducenti delle macchine, arrivava la pattuglia della polizia municipale e la mobilità 215 dei vigili del fuoco. Vista la grande entità di fumo e dell'incendio con il modulo si è cercato di circoscrivere le fiamme che si trovavano adiacenti agli oliveti. Mentre la pattuglia della polizia municipale si recava sulla strada provinciale per regolare il traffico, la ronda AIB iniziava a spegnere l'incendio adiacente alla strada e poi all'oliveto interno. Alle ore 18.40 sono giunte sul posto due squadre dei vigili del fuoco con i rispettivi mezzi, il fuoristrada Defender e l'autobot Mercedes 2. Il capo pattuglia dei vigili del fuoco ha raggiunto i volontari per assicurarsi che ci fosse acqua sufficiente nell'autobot dell'associazione, tornando quindi poi alla sua squadra. L'intervento AIB è durato sino alle ore 20 circa per spegnere un'area di circa 5 ettari. Subito dopo aver terminato le operazioni, i volontari con il capo squadra dei vigili del fuoco e il responsabile della polizia municipale del comune di Andria hanno registrato le coordinate, precisando che l'aria va bonificata dalla biomassa per scongiurare l'emissione di CO2 delle porveri sottili. Martiera Donna ha quindi contattato la SUP di Bari comunicando l'intervento AIB e i dati succitati. Le operazioni sono terminate alle ore 20.